Ciao a tutti e benvenuti, ottimi minuti alla fisica di inizio che diamo insieme i protagonisti della mezza. Al ventanale incontro il signor Lavelli, assistenti di signori Massio e Perretto, quarto ufficiale il signor Lavelli, arbitro Barra, il signor Oxaldo, assistente Barra, il signor Porto. Unificiamo le portazioni delle squadre, Valentina. Unificiamo le portazioni delle squadre, unificiamo le portazioni delle squadre, con il 77.31. A disposizione con il 22 Cervolini, con il 27 Tadonski, Vado Vlekovic, con il 6 Sanchez, Lotto Samporana, con il numero 10, Kizik, con il numero 15, Oliver, con il 5 cento di stop, con il 28 Dias, con il 30, Pabaka, con il numero 38, con il 76. Allora 6 Sanchez, per fare per fare questa stanza. Il civile alraitare. Role al ritmo, la rupto, ilure a fare questa stanza. Releccione le portazioni delle squadre, Ma tenendo una notte la rupto, 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 la rupto. I Venti Alattori Massimiliano Alessi Ognino numero 23 Boice Senti Numero 7 Juan Alcato Per il numero 9, Gonzalo, come la 10, Buono, come la 14, Vles, come la 15, Andrea, come la 17, Mario, numero 29, Quattro, Massalo, all'interno numero 24, Daniele, numero 27, Staccaro, numero 30, Rodrigo, a disposizione con il numero 1, Rufon, 16, Pinzogno, 3, Pierlini, 4, Pena, Chia, 5, Pionic, 11, 2, Nascosta, con il 12, Alessandro, numero 21, Paredes, con il 26, Steiner, con il numero 33, Bernardeschi, Bianconeri, sulle scelpe, sui colori, e ancora la volta, fino alla fine, Forza Piume! Grazie! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.